A bene, ad ogni modo, io ritengo un documento straordinario e importantissimo che è necessario leggere approfonditamente e meditarci sopra, anche alla luce delle vostre due relazioni quella di Giuseppe e tua di Franco, credo. Il documento è stato approvato telematicamente dal Consiglio Nazionale ma non è stato formalmente approvato dal Consiglio Nazionale cioè non c'è stata una riunione del Consiglio Nazionale che ha portato approvazione però telematicamente è stato assolutamente quindi io come Presidente allora del Consiglio Nazionale ho acquisito questa approvazione generale non posso formalizzarlo esternamente, questa parola è estremamente importante esternamente se non c'è l'approvazione giustamente del Consiglio Nazionale però ritengo opportuno e quindi manderò una mail a tutti i direttori generali perché i direttori tecnici dovrebbero avercela esternamente passata in Cdp certo per essere molto chiari nelle nostre procedure, non dimentichiamocelo in modo tale che il documento sia reso disponibile comunque nell'informazione generale in modo tale che ci possa già cominciare a lavorarci sopra. Solo due battute ai miei colleghi, sia dell'agenzia sia di Ispra io credo che questa storia sia una storia importantissima del paese è una storia giovane perché quando noi facevamo le valutazioni di impatto ambientale questa roba a partire, tanto per essere molto chiari come epoca e come storia quindi non c'era lamentarsi nessuno è vittima io ho fatto il direttore generale di protezione civile il vice capo dipartimento se c'è la passione, il processo è un processo in itinere estremamente positivo i numeri sono molto interessanti molto interessanti sui quali è bene meditare credo che sia un processo estremamente che è possibile raccogliere anche da un punto di vista, credo, da un punto di vista normativo di fatto è un percorso giovane secondo me ci sono, lo dico da utente esterno in passato ci sono ancora delle luci e ombre molto forti su quella che è l'interpretazione dell'AIA e l'interpretazione della Seveso proprio anche come tempi cioè non è detto, anzi vi dico che è assolutamente detto che c'è una connessione stretta sulla qualità dell'AIA e sulla potenziale rilevanza dell'incidente tanto per essere in moltissime situazioni del paese per esperienze dirette sia sulla pianificazione interna che sulla pianificazione esterna quindi in realtà il legislatore non ha ancora avuto chiaro questo discorso e non l'ha chiaro anche a livello europeo perché credo quello che Pini ha rappresentato come disegno del rimbalzo del percorso e si potrebbe tracciare molti rimbalzi di altro tipo è estremamente importante quindi credo che siamo in un percorso che però sottolineo qua questo e mi leggo al discorso che tutti leggiamo attentamente quei numeri e cerchiamo di capirli molto bene deve essere raccolto dal sistema non può essere raccolto individualmente da nessuno di noi non può essere raccolto individualmente dall'ISPRA non può essere raccolto dalla Lombardia non può essere raccolto dalla Sicilia e credo che questo sia un po' io ho voluto stare qui dall'inizio alla fine avete visto perché lo ritengo un documento importante è la prima volta che io vedo questi numeri in questo modo scusate se non sono tutti discorsi da bar e qua discorsi da bar se ne regalano poi noi se facciamo gli ispettori vogliamo i numeri allora è contraddittorio noi parliamo di noi stessi senza avere i numeri e vogliamo parlare degli altri avendo i numeri allora io credo che questo sia un discorso molto importante e molto ben fatto complimenti anche come coordinamento si nota che alcuni strumenti di innovazione questo discorso che facevi tu sono assolutamente necessari a partire dall'ICT cioè a partire dai supporti informatici e telematici e quindi noi stiamo portando sulla spesa economica addirittura la strutturazione del SINA nessuno lo sa qui dentro stiamo portando alla livello di finanziamento nazionale per avere un SINA ragionevole e vi ricordo che c'è un articolo 11 quindi dobbiamo ragionare che termini l'articolo 11 se nasce una piattaforma specifica questa deve essere pensata ancorché con la sua indipendenza all'interno di un'architettura ICT che sia un'architettura disponibile per il paese internamente ed esternamente è quello che sottolineava Giuseppe che sottolineava Franco nell'acquisizione della difficoltà che lei ha sottolineato molto bene alla fine quindi l'unica cosa vi prego come per me facciamo questa mail la mando a tutti quanti me ne assumo la responsabilità di fronte soprattutto ai direttori generali perché voi l'avete già condivisa e ripeto che la meditazione deve essere fatta consentitemi guardando al futuro e senza la mentele questo lo dico proprio per il sistema perché se ci sono la mentele dentro l'ISP ci sono anche tra un'agenzia e l'altra agenzia noi andiamo a diverse velocità non a due velocità andiamo a dire per mia esperienza anche come Presidente del Consiglio ma questa è la partita giustamente del paese e non è semplicemente retiplicando mette cento volte le unità personale non è questo non è solo questo e anche questo ma non è solo questo quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto sono fondativi è l'inizio di un percorso io credo che debba essere portato avanti nella direzione delle relazioni che avete fatto grazie grazie come Presidente complimenti a tutti veramente grazie 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 grazie